Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui anche questa sera per un altro approfondimento sul fantacalcio e soprattutto per quanto riguarda il video di oggi sugli attaccanti. Come avete visto nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, abbiamo visto gli underdog in difesa, gli underdog a centrocampo. Ci mancava ancora il video degli underdog in attacco. Allora ragazzi, intanto riassumo molto brevemente che cos'è un underdog. È un giocatore che ha già dimostrato qualcosa nelle scorse stagioni, ha fatto capire di avere un bel potenziale nelle gambe a livello di bonus, in questo caso parlando di attaccanti, ma che per qualche motivo pensiamo che all'asta o verrà sottovalutato rispetto magari alle prime fasce di top e semi top o semplicemente pensiamo che quest'anno possa essere l'anno in cui esploda definitivamente. Quindi non sono scommesse, non sono giocatori sconosciuti come vedremo, ma sono giocatori che secondo noi potrebbero rendere molto di più del prezzo che effettivamente avranno all'asta. Detto questo, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like e se vi va attivate anche la campanella per essere sempre aggiornati su tutto quello che succede qui su questo canale. Che sia un video, ogni giorno ne escono due nuovi, o che sia una live. Come vedrete, ragazzi, nel video di oggi andremo a vedere tra attaccanti giovani, mentre due sono già un po' più datati, ma quelli ce li teniamo alla fine. Il primo nome che vi voglio fare è quello di Musa Barro, classe 1998, me lo sono anche scritto per non sbagliarmi. L'anno scorso, possiamo dirlo, è stata una delusione un po' grande Barro, nel senso che a inizio campionato da lui ci aspettavamo almeno una doppia cifra bassa e invece, nonostante le 38 presenze, quindi comunque le ha giocate tutte, ha fatto solamente 8 gol. Va detto che per gran parte della stagione, se non tutta, Barro ha giocato da prima punta. È vero che era più vicino alla porta, ma è anche vero che secondo me quello lì non è il suo ruolo. L'anno prima al Bologna fa solamente metà stagione perché inizia a giocare a gennaio, fa 18 partite e fa 9 gol. Quindi tutti più o meno si erano fatti conti, beh dai se ne fa 36 potrebbe fare 18 gol e invece ne ha fatti 8. Per questo possiamo dire chiaramente che è stata una delusione. E allora perché io vado a mettere Barro in questo video quest'anno degli underdog? Beh intanto a livello di hype nel Bologna tutti parlano di Arnautovic in attacco e di Orsolini a centro campo. Quindi di Barro, se così iniziato un po' a leggere i forum, a sentire un po' di video qua e là, di Musa Barro se ne parla veramente poco, poco, poco. Altro motivo ovviamente è che con la presenza di Arnautovic prima punta, Musa tornerà a fare il ruolo dove aveva fatto molto bene. Perché non è detto che se un giocatore lo allontani dalla porta, allora gli andrai a diminuire il numero di gol. Io faccio sempre questo esempio, l'anno scorso abbiamo visto come Lozano, giocando da esterno, rendeva in termini di bonus. In quelle partite dove Gattuso lo metteva prima punta, e beh ragazzi non tutti sono Mertens che messi prima punta diventano dei falsi nuovi. No, ci devi sapere giocare lì. Quindi Barro secondo me da esterno, paradossalmente anche se più lontano dalla porta, potrebbe proprio beneficiare dalla presenza di Arnautovic e aumentare il suo bottino in termini di gol. Io da Musa Barro, se sta bene, non dico che deve fare 38 presenze di nuovo, ma anche se ne fa 34-35, io 11-12 gol quest'anno da lui me li aspetto. Secondo nome, restiamo negli attaccanti giovani, ed è il nome di Scamacca. Scamacca, classe 1999, arriva da una stagione in Serie A con 26 presenze e 8 gol, mentre l'anno prima all'Ascoli in Serie B fece 33 presenze e 9 gol. Quindi non ha mai fatto una doppia cifra negli ultimi due anni. E allora perché consiglio Scamacca? Che tra l'altro in questo momento non è neanche titolare nel Sassuolo, perché il titolare se sta bene è caputo. In più c'è anche la concorrenza di Raspadori, allora perché Scamacca? Beh, intanto è un 99. Come sappiamo, vedi Vlaovic, anche se ovviamente sono due giocatori molto diversi, quando si ha quell'età lì e si è attaccanti da un momento all'altro, basta una partita, basta un periodo di due, tre partite positive e così qualcosa scatta nel giocatore che può davvero esplodere a livello proprio realizzativo. Quindi Scamacca, diciamo che a livello di mezzi fisici e anche tecnici, ha tutto per fare bene. Dico Scamacca e non Raspadori proprio perché a livello fisico io vedo molto più uno Scamacca in questo momento in Serie A rispetto a Raspadori. Nonostante a livello tecnico il Raspadori sia sicuramente, forse da quello che ho visto, più forte di Scamacca, io Scamacca lo vedo molto più grande dal punto di vista fisico dell'età che ha. Un po' come Vlaovic che ha un 2000, ma se tu non lo vedi in faccia fisicamente gli daresti 10 anni in più probabilmente. Ed è un complimento, questo è chiaramente. Quindi io dico Scamacca, dico che comunque Caputo arriva da una stagione travagliata, non la sto gufando a Caputo, ma difficilmente vedremo un Caputo da 38 partite. A parte che non siamo neanche sicuri che Scamacca resterà a fare panchina a Sassuolo, potrebbe anche nelle prossime giornate di mercato andare a fare il titolare in un'altra squadra in Serie A. Però anche dovesse restare a Sassuolo, secondo me le sue 20-25 presenze, le può fare tranquillamente. E secondo me se riesce a fare più o meno le presenze che ha fatto l'anno scorso, 26, anziché fare 8 gol, per me anche lui quest'anno potrebbe potenzialmente raggiungere la doppia cifra bassa. Dipenderà da tante cose, da come sta Caputo, da come sta Scamacca, da come andrà anche il Sassuolo, che comunque ha cambiato mister, e quindi ovviamente ci sono un po' di ma, ma se non ci fossero tutti questi ma, Scamacca non sarebbe degli underdog, l'avrei già messo tra i semi top o tra la terza fascia alta. Quindi, tenetevelo buono lì, Scamacca, secondo me, ha il giusto prezzo, magari anche in coppia con Caputo, potrebbe assolutamente essere un nome molto molto interessante. Il terzo nome è un altro attaccante molto giovane, ed è Borgia Majoral, classe 1997. L'anno scorso, alla prima vera esperienza da titolare in una grande squadra, 31 presenze, ma spesso da subentrante o giocando metà partita alternandosi con Dzeko, e comunque 10 gol. Allora, tutto nasce da un paio di convinzioni che ho io, per quanto riguarda la Roma. La prima convinzione è che Dzeko non è più un giocatore che può fare 15, 16, 18 gol. Per me Dzeko, se resterà alla Roma, i suoi gol li farà, ma più di una doppia cifra bassa io non riesco a vederla in Dzeko. In più, Dzeko, a livello fisico, secondo me, non è più un attaccante che vi può fare 35, 36 presenze. Quindi, almeno come l'anno scorso, ci sarà alternanza tra i due giocatori. In più, Borja Majoral ha un anno in più di esperienza nel nostro campionato. È vero che si tratta di un prassito biennale, quindi la Roma non è detto che a fine campionato sarà ancora la proprietaria di questo giocatore, ma è anche vero che il giocatore farà di tutto per mettersi in mostra, sia per fare buona impressione con la Roma, sia comunque per fare buona impressione con il Real Madrid. In più, va detto che è stato preso Shomurodov e se devo pensare a un ipotetico modulo di Mourinho in certe partite, cosa che almeno di base non ci sarà, con due punte, beh, io onestamente vedo meglio Shomurodov e Borja Majoral rispetto a un Dzeko Shomurodov. Cioè Shomurodov fisicamente mi ricorda molto più Dzeko. Poi è vero che anche lui è come Dzeko, proprio un giocatore tecnico, ti può far giocare anche meglio la squadra, mentre Borgia Majoral lo vedo abbastanza diverso. Quindi, secondo me, anche come coppia io vedo meglio quella coppia lì. Detto questo, la Roma parte col 4-2-3-1, quindi almeno per ora vedremo sempre o Dzeko, o Borgia Majoral o Shomurodov. Vediamo ragazzi, per me Borgia può tranquillamente almeno ripetere la stagione dell'anno scorso, almeno, se non migliorare la cosa che per me farà. Io credo che se Borgia Majoral con Mourinho farà nuovamente 31 partite, se l'anno scorso ne ha fatti 10, quest'anno ne può tranquillamente fare 12, 13, 14. E in più, ragazzi, Borgia Majoral, secondo me, ha il grosso merito che è un giocatore che anche a partita in corso può essere importante. Quindi non devi per forza metterlo dal primo minuto. Di queste 31 presenze, tante volte è subentrato. E comunque ha fatto discretamente bene. Quindi Borgia Majoral lo metto negli underdog perché sento comunque in giro tanto scetticismo in generale sul reparto avanzato della Roma a livello di attaccanti, ma anche sulla possibilità che sia lui effettivamente il titolare. Molti danno ancora a Dzeko come titolare. E ci può stare, perché comunque è Dzeko. Quindi, magari all'asta, un Borgia Majoral, secondo me, sotto il 15%, forse riusciamo a portarcelo a casa. E un Borgia Majoral che io pago 10, 11%, 12%, se poi mi fa 12, 13 gol, beh, tanta tanta roba. E poi, ragazzi, arrivano gli ultimi due nomi. Vi ho detto che erano due nomi non tanto giovani, ma due nomi che conosciamo bene del nostro campionato. Il primo nome, ragazzi, è il Nino Meraviglia. Sto parlando, ovviamente, di Alexis Sanchez. Perché vado a mettere Sanchez in questo video? Allora, intanto andiamo ad analizzare la scorsa stagione. 25 partite, un sacco di volte da subentrante. 7 gol e 6 assist, ok? Simone Zaghi, se lo avete seguito bene nelle ultime annate della Lazio, è un allenatore che, tolto il mobile, quindi tolto il punto di riferimento della squadra, che vedremo chi sarà quest'anno, perché nel momento in cui vi sto parlando, Lukaku sembra avere già un piede e mezzo a Londra col Chelsea, la seconda punta Simone Zaghi la fa girare un sacco. Ricordiamoci alla Lazio, Corea, Caicedo, lo stesso Murici, insomma, c'è stata tanta alternanza. Quindi io non mi meraviglierei, soprattutto se sotto i periodi di Champions League, magari vediamo un Lautaro panchinato e Sanchez titolare nell'Inter in campionato. Io dico che se Sanchez fa nuovamente almeno un 25-26 partite, ma magari questa volta non la maggior parte subentrante, ma più o meno equamente divise tra titolare e subentrante, potrebbe anche avvicinarsi a una doppia cifra. Ma anche se dovesse fare 8-9 gol, ma anche 7 con 6 o 7 assist, Sanchez secondo me è quel giocatore che all'asta paghiamo sempre pochissimo. All'asta secondo me in certe leghe lo pagate anche meno del 3%. E quindi occhio perché un Sanchez pagato meno del 3%, anche se dovesse farvi, tra virgolette, solamente 7-8 gol, è comunque un ottimo colpo. L'ultimo nome è un nome invece che so già che farà discutere. In quest'ultimo slot underdog potevo sostanzialmente metterci due nomi. Il nome che ho deciso di non mettere, perché voglio vedere che cosa succede nelle prossime tre settimane di mercato, è quello di Dybala, che ha il potenziale da top, ma che avrei potuto mettere negli underdog proprio per i discorsi legati alla titolarità, ancora non chiara in questa Juve. Ma il nome invece che ho deciso di mettere è quello di Dries Mertens. Perché vado a mettere Mertens? Allora, intanto Mertens arriva da due stagioni dove ha fatto 31 presenze e 9 gol e 29 presenze, 9 gol e 7 assist. Sottolineiamo anche i 7 assist dell'ultima stagione. Ci sono almeno tre motivi per cui metto Mertens in questo video. Il primo motivo è l'infortunio. Paradossalmente, questo infortunio che ha avuto Mertens in questo periodo, per noi che vogliamo Mertens all'asta, è un vantaggio. Nel senso che lo abbasserà di almeno 4-5 punti di percentuale all'asta. Io credo che ad oggi, per chi fa l'asta a fine agosto, o comunque a metà agosto, ma inizio settembre, Mertens, secondo me con una spesa inferiore al 10-11%, ma in certe leghe anche al 7-8%, ve lo portate a casa. Mertens, nelle ultime stagioni, ha avuto diversi problemi fisici. Lui, infatti, nell'ultimo anno ha saltato 9 partite, spesso è entrato anche lui da subentrante, ma Spalletti ha già detto che nel suo 4-2-3-1 un posto per Mertens, se sta bene, lo troverà sempre. Può fare la prima punta, può giocare sotto punta. Quindi il secondo aspetto che mi fa dire Mertens in questo video, oltre al fatto dell'infortunio che ne abbasserà il prezzo all'asta, è quello della sua duttilità. Mertens potenzialmente può giocare ovunque nel 4-2-3-1 di Spalletti, perché anche 4-2-3-1 messo esterno, Mertens, dove lo metti, sta, come ha detto Spalletti. Anche se ovviamente io credo che lo vedremo sempre o prima punta, o trequartista in alternanza con Zelensky. E il terzo motivo che alcuni stanno dimenticando, è che Ossiman, da tutti considerato un super top quasi quest'anno, cosa che può anche diventarlo, ma è tutto da dimostrare, a gennaio se ne va in Coppa d'Africa. Potrebbe saltare 4 partite, ne potrebbe saltare 5, ne potrebbe saltare 6, non lo sappiamo. Sappiamo però che solitamente quando i giocatori poi tornano dalla Coppa d'Africa, beh, almeno 2-3 settimane più o meno ci mettono per rientrare in forma. Quindi potenzialmente Ossiman per almeno 6-7 partite non sarà Ossiman al top della forma, o proprio non ci sarà. Beh, in quelle 6-7 partite o gioca Petagna prima punta, o gioca Mertens, o magari giocheranno entrambi. Ecco, avere un Mertens nel Napoli titolare per un mese e mezzo sicuro, beh, secondo me non è un aspetto da sottovalutare. Aggiungiamoci che comunque Mertens può tranquillamente giocare anche con Ossiman, perché Zelensky all'occorrenza può anche fare il centrocampista dietro, o comunque anche lì non è detto che Zelensky farà 38 partite, perché comunque il Napoli, l'Europa League ce l'ha. Beh, ragazzi, io Mertens un pensierino ce lo farei, è ovvio. Non possiamo più considerare come qualche anno fa Mertens come primo, secondo o terzo slot. Per me in leghe a 10 o più persone Mertens può essere un ottimo quarto slot. In leghe a 8 forse addirittura potrebbe anche essere un quinto slot. Ma comunque Mertens è un giocatore che se è preso al giusto prezzo, e per il giusto prezzo intendo 6-7-8%, nel medio e lungo periodo, se mettete in conto che vi salterà tutto settembre, probabilmente anche l'inizio di ottobre, potrebbe sicuramente essere un giocatore molto, molto interessante. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, ditemi tutto, siete d'accordo, non siete d'accordo, cosa ne pensate di questi 5 nomi, insomma, ditemi la vostra, sono curioso, io vi saluto, vi ringrazio, spero e credo che seguiranno altri video dedicati agli underdog nei vari reparti, soprattutto a centrocampo ne ho già addocchiato altri 2-3, appena arrivo a 5 vi porto un altro video. Grazie mille, come sempre è stato un piacere, nei prossimi giorni farò anche un video sull'esche, cioè quei giocatori da chiamare per far spendere gli avversari e occupargli un po' di slot, quindi insomma, ci saranno sempre tanti video, almeno un paio al giorno, più le live, grazie mille, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, ricordatevi che sono gli ultimi giorni a vostra disposizione per potersi iscrivere al Fanta Calcio, dove il primo premio sarà una PlayStation 5, dove il secondo e il terzo premio saranno premi altrettanto importanti, che a breve vi andrò ad annunciare, grazie mille, ciao a tutti e alla prossima, ciao!